Sì, vai Matteo, qua puoi fare quello che vuoi. Guardi, alta. Usa i pugni. Guardi, guardi, guardi. 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 Ci devi puntare prima di sopra e poi di ripartire. Ce la faccio io qui. Vai. 45 secondi. Non scappare in acqua. Bravo. 4 punti. Stop. 4 punti più un punto di merenda sono 5 punti. E il giuro di me verso 6. 30 secondi. 30 secondi. Bello. Stop. Guarda a terra. Speriamo. E la terza di sesta. Vai. Tutto giusto. Brava. Ok. Guardate in fuoco. Guardate la gestione. Guardate la camminata. Guardate. Noi stiamo riuscendo, se stai guardando un attimo ci piace. Allora, andiamo! No, non fai un marco. No, non sono fai un marco. Scusate, non fai un marco. Allora, non rispetto. Allora, c'è un marco. Allora, c'è un marco. Allora, c'è un marco. Dai, che prendo pagare lo stampo dopo? Molto stampo dopo. No, per te. Non sono... No, due peccone spese. Due peccone spese. No, è sempre lì. Non c'è quello che fa. Non c'è quello che fa. Infatti, però, con una foto a meno sopra, le rotte colpette. In questo modo... Quindici! Dai! Dieci! Quindi... Grazie. 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 Grazie.